Guardate, guardate ragazzi, più 8000 XP, ragazzi, ragazzi, più 8000 se rigirate, vi steve, male, sto sognando, vi da livelli infiniti, vi da livelli infiniti ragazzi, ragazzi piccola premessa prima che inizi il video abbiamo scoperto un glitch assurdo, io ho dovuto shoppare tutti i livelli del pass con i soldi per fare uno scherzo a mia madre che prossimamente vedrete, ma con questo metodo è possibile sbloccare tutti i livelli del pass gratuitamente. Ragazzi, vi lascio al video, codice madde per shoppare il pass battaglia, mi raccomando, vi invio la richiesta da licenza. Ecco qui tutto il pass battaglia, ovviamente, se dovete shopparlo, codice madde, guardate qui ragazzi, ce l'ho tutto e vedrete prossimamente uno scherzo a mia madre dove ho shoppato tutto il pass con i soldi di mia madre e gli è arrivato anche il messaggio, quindi vedrete presto. Guardate qui, guardate che figata è la skin finale del pass battaglia, eccola qui il mandaloriano e praticamente con le sfide in teoria si dovrebbero sbloccare tutte queste cose, insomma tutte le sfide che ci sono. Qua su nuovi incarichi ci sono tutte le sfide per sbloccare l'ermetto, poi vabbè il coso per la spalliera e il coso per la mano e di qua e di là. Siamo ora nella nuova season 5 di Fortnite ed io e Vale abbiamo scoperto un glitch che supera ogni limite ragazzi. Vale saluta Vale, sto sognando, sto sognando, oggi è davvero assurdo, sto sognando, io ho speso 100 euro per shoppare tutto il pass e ho appena scoperto il glitch. Oh mio dio ragazzi, sto sognando, questo punto che vi stiamo facendo vedere è il punto dove si fa il glitch, ma prima di iniziare mi raccomando, come vedete qua sotto, codice creatore Mad è il mio nuovo codice creator. Vi ricordo che chi mi supporterà nello shop avrà la richiesta d'amicizia e il provino fatto, mi raccomando ragazzuoli, codice Mad solo per veri matti. Vale ci sei, sei pronto? Sì crazy ci sono, è un glitch davvero assurdo. Siamo bro, ci siamo, mi raccomando like, iscrizione e campanellina attivata per questo super glitch. Ragazzi io non so se quando vedrete il video lo avranno patchato, non lo so se lo avranno risolto. Speriamo di no crazy. Speriamo di no, ma io l'ho scoperto e ora vi faccio vedere che è tutto real. Per prima cosa però dobbiamo prendere delle armi se non rischiamo che... Beh esatto, esattamente crazy. Rischiamo di finire male ecco. Di ricreparci un po', ecco. Ok, una pistola crazy. Ok, io ho due cosi, una... Perfetto, ok, io le armi ce le ho. Vale fermo. Che cosa è successo crazy? Vale, ce l'ho qui. Ah, ah, cavolo, non riesco a ucciderlo, dov'è, dov'è? Vieni qua. Ok, anche da dietro, attenzia, da dietro, dice noia. Ma dove vuole scappare? Ok, vai, 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 vai. Ok, perfetto male. Va qua, qua, qua. Ok, un altro. Ovvio crazy. Let's go. Oh, no, no, crazy, ci muoci. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Ho buildi, sono morto, ho buildi, sono morto. Ok. Io se esco sono morto crazy, te lo dico. Vale, ci siamo, ci siamo, ci siamo, andiamo, 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 andiamo. Vai, vai, veloce, veloce crazy. Vale, allora spieghiamo questo glitch che abbiamo appena scoperto. Che abbiamo appena scoperto. Siamo mandati qua per caso, ok? E allora passavo di qui. Ho fatto così. Guardate. Guardate, ragazzi. Più 8000 XP. Ragazzi, ragazzi, più 8000 se rigirate. Viste? Vale. Sto sognando. Fra, i livelli infiniti. Mi dà livelli infiniti, ragazzi. Non c'è bisogno di shoppare, crazy. Ragà, ragà, no, sto sognando, ragazzi. Sto sognando, ragà. Ragà, voi in due secondi avrete il pass livello 100. No, ragà, non ci credo. Vabbè, io l'ho già shoppato, ho speso 100 euro, però. E io non ho ancora, crazy. Guardate qui, ma non so se è un glitch o è qualcosa che le games ha messo. Crazy, io ho già fatto tre livelli. No, guarda qua, io li sto facendo ancora. No, vabbè, sto sognando. Ok, metti il muro qua così non ci spara. No, funziona anche così. Funziona? Sì, sì, mi funziona. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Guarda qui, guarda qui. No, vabbè, regà. No, vabbè, regà. Sono già quasi 104 livelli. Vai. Vai. 104, 104, livello 104. Regà, regà, vogliamo arrivare a livello 1000 per forza. Vogliamo arrivare a livello 1000 per forza. Livello 1000 per forza dobbiamo arrivare oggi qua. Vale, ci sparano, eh. Perché hanno scoperto anche loro il glitch, però. Hanno scoperto anche loro il glitch. 25, 25, 25, 25, 25. Hai colpi? Hai colpi vale, perché non ho neanche più colpi. Eh, non lo so, in realtà. Cioè, ti è colpi, questi, questi. Puoi chiamare colpi. Ok. Ok, crazy. 52, ma, vabbè. Ok. Una R qua. No, mi piace come vale essere andato per i cavoli suoi. Per aiutarmi. No, ti ringrazio, vale, eh. Cioè, sei un amico, sei un amico. Si vede. Sì, era tutto calcolato. Sì, certo. Tutto calcolato. Anche questo l'ha calcolato. Andiamo. Vi faccio vedere dov'è esattamente il punto. Si trova a foresta frignante in questo, in questa T che formano le strade. Esattamente qui, ragazzi. Oh, mio Dio. Non so, ripeto, se lo baceranno, ma è una cosa super figa. E adesso proveremo ad arrivare al livello 1000. Intanto solo, ragazzi, solo per ringraziarmi di questa cosa, vi prego, codice mad nello shop. Shopate il pass con quello. Perché? Perché giocheremo insieme. Purtroppo non mi posso regalare il pass, perché sennò Epic Games mi ritoglio il codice creator. Però, ragazzuoli, mi raccomando, codice mad nello shop. E andiamo a rifare i nostri bei livelli gratis, vale. Ok. Guardate dove ce l'ho scoperto. Io giro, io giro, vediamo. Vale? Sì? Ho come l'impressione. E invece no! Eccoli qua! Eccoli qua! Avevo paura che li avessero patchato, Vale. Oh, yes! Oh, yes! Giro, giro tondo. Casca il mondo. Casca la terra. Tutti livello 100. Ah! Guardate questo momento in basso, bro. Mamma mia, crazy. Vai, vai, farmiamo, farmiamo. Vai, vai, farm. Sì, 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 sì. A livello infinito! Ah, però, crazy, c'è un nemico crazy. Effettivamente. Ah, no, 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 vuole fare amicizia. Freghiamolo, freghiamolo, crazy, freghiamolo. Oh, vogliamo fare amicizia! Vieni, vieni, vieni qua, vieni, 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 ma che amicizia non si fa amicizia si pone, t'hai capito? Fra, fra, io volevo fare amicizia, ma rischio di farmi bannare e non voglio farmi bannare di nuovo. Ok, è scappato? Dai, ma è scappato, ma è scappato. Questo qua ritornerà. E... Più forte di prima? Sì, fra, sì, te lo dico io, se non lo uccidiamo subito. È messa anche a me, crazy. Si è bloccato. Ok, crazy, a posto. Vai, farm, farm, crazy. Vai, vai, farm, però, farm, però, ogni tanto faccio il medit. Farma, farm, farm, farm. Vai, 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 vai. Brava, no, fra, se lo fai tu, lo dà anche a me forse, prova. Ah, davvero? Eh sì, perché ci sono le cose di gruppo forse. No, 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 a me non lo so dare. No, 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 non funziona? A me la dà, mi ha dato più 15 mila per te. Ah, però una missione, non per questa roba. Sì, perché si fa male, mi schierete anche... Guarda qui, certo, di... No, va bene, regalo. No, va bene, che livello se è il bro, 14. Eh no, quello è buggato. regà regà no è troppo illegale regà è troppo illegale regà è troppo illegale regà è troppo illegale ragazzuoli ma che ma che ma che stiamo parlando che poi è il gliccio più facile in assoluto da fare girare niente per fare solo girare devi solo girare questo che lo sapevano per pacchettissimo regà casissimo che quindi da tutti i punti esperienza ne ho a questo punto io ti dico mi viene il nervoso che io ho speso 100 euro per fare il meno che io non gli ho spesi di cosa trovare ti rendi conto speso 100 euro faccio i livelli gratis e livelli venite a me vai vai crisi ragazzo dice mad e intanto prendiamo anche una cucciaiata di dovete nutrirvi perché non avete l'energia 114 g va bene regà no vabbè io sono giocato il fornette il mio gioco preferito così quasi è vale quasi quasi dire infine vi ringrazio per aver visto questo video se siete arrivati a questo punto del video commentate con hashtag sei un pazzo e mi raccomando supporto ancora in massa destra per shoppare gli uves in il pass battaglia mande conto su di voi ciao